e allora vogliamo fare i complimenti a questa salernitana che dopo 100 giorni e passa mi sembra che era tipo da settembre che non vinceva una gara fuori casa torna a farlo oggi torna a farlo in una maniera anche tutto sommato convincente facendo producendo molti più tiri all'interno dello specchio della porta rispetto a quelli del Pescara torna a farlo appunto vincendo 2 a 1 con una doppietta di Milan-Juric primo gol stupendo veramente un gol da fuori classe addomestica questa palla e poi d'esterno destro la mette sul palo quello lontano parlo ovviamente della ripresa che è stata molto spettacolare a livello sia di occasioni sia di gol perché il primo tempo è finito 0 a 0 però già anche nel primo tempo comunque c'era stato un tiro di Maestro un tiro di Gondo un tiro di Lombardi per cui comunque già si vedeva che era una salernitana in giornata come dicevo le statistiche le sto leggendo da diretta.it perché a volte tu lo sai magari guarda la partita e c'ha una certa impressione poi però le statistiche confermano a livello di tiri quindi tiri globali quindi anche quelli non nello specchio abbiamo 14 da parte della salernitana e 9 da parte del Pescara invece a livello di tiri nello specchio che poi sono quelli che contano lì si vede proprio la differenza perché 10 tiri nello specchio da parte della salernitana e 3 solo 3 da parte del Pescara un altro dato molto importante è anche la maggior quantità di falli fatta dalla salernitana che appunto ci sta a dimostrare la maggior aggressività a centrocampo e quindi appunto ricapitolando i gol proprio all'inizio della ripresa al quinto minuto la sblocca di Uric con questo gol stupendo di esterno dopo soltanto 4 minuti la archivia nuovamente con un gol da centravanti di rapina e poi al 62esimo dopo che già prima c'era stata un'altra opportunità è Maniero ad accorciare le distanze sul 2 a 1 e quindi per la classifica passetto in avanti da parte della salernitana che sorpassa il Frosinone e si porta a 29 punti mentre invece il Pescara esce un po' fuori dalla lotta insomma per il playoff e finisce anche sotto la Juve Stabia che quindi la sorpassa Juve Stabia 27 e Pescara a 26 Juve Stabia 26